Il desiderio del popolo per una vita migliore è anche il mio obiettivo. Furono le parole di Xi al suo discorso di inizio mandato come segretario generale del partito, un mandato che, con lui e per lui, è poi diventato potenzialmente a vita. Una vita migliore come elemento essenziale del patto sociale fra partito comunista e il popolo, essenziale anche per garantire un futuro al modello cinese dopo il fallimento di quello dei cugini russi con la caduta del muro. Meno libertà, ma più benessere e sicurezza garantiti ovviamente dalla competenza e capacità di giudizio del partito, tutto sostanzialmente confermato negli ultimi 30 anni di successi. Il patto reggerà l'urto del coronavirus dipende ovviamente da durata e impatto delle crisi, quella sanitaria già evidente e quella economica che muove i primi passi. Già ora competenza e capacità di giudizio del partito sono però messi pubblicamente in discussione sui social, con riferimento soprattutto a due fatti fra loro collegati. Il primo, il ritardo nella comunicazione dei primi casi, un mese di silenzio che ha lasciato i cinesi alla loro vita normale, inclusi festeggiamenti di massa per l'anno lunare a Wuhan durante la fase di maggior contagio. E poi le accuse delle autorità locali nei confronti di Li Wei Lian, il primo medico a denunciare la diffusione del virus. Alla sua morte, dopo il contagio, è diventato un eroe della difesa del benessere dei cinesi contro l'irragevonevolezza dei leader. Non possiamo però sottovalutare il fortissimo senso di unità nazionale cinese che la tragedia collettiva potrebbe ulteriormente rafforzare, né la potenza di reazione del partito di fronte ai primi traballamenti. Xi è stato fuori dai riflettori per alcune settimane, per poi tornare in ballo, ballo in maschera, per sostituire i leader locali, creare un potentissimo gruppo di lavoro per l'emergenza, spedire il premier nelle zone più a rischio e, soprattutto, per lanciare una guerra del popolo al coronavirus. Una guerra che evoca Mao e l'antico patto sociale che univa pienamente di fronte alle sfide il popolo e la leadership. Una leadership che impara dagli errori e posticipa persino il ritrito dell'Assemblea nazionale del popolo perché metà dei delegati sono anche leader locali che devono rimanere in prima fila a combattere. Forse anche perché 8.000 persone in una sala sarebbero state a forte rischio contagio, forse. Xi e il partito, certo, traballeranno un po' in maschera, ma nonostante alcuni passi sbagliati è forse presto per immaginarli fuori dalla pista da ballo.